A? O B? Due, 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 ne abbiamo due. La A? No, no. La A? Va bene, sì sì, abbiamo capito Genoveffa. Detta Jenny, Jenny, detta Jenny. Detta Jenny. Ho detta... Signora Magalli? Aspetta, ah questa è... Ha detto A. No, che... Ha detto A. Ha detto A. Ha detto A. Sì, sì, concentriamoci. Tanto una cosa dovete fare, quella lì. Facile, Laura. Sono rimasta l'amore di... Sì, sì, sì. E perciò poi cala il giorno. Perché questa è una cosa che non deve succedere, dai. Va bene, comitato, poi ce le possiamo dire al bar. No, no, qua, qua, qua. Non è che ce le dobbiamo dire qua, perciò. Qua, qua. E perché lei è uno che le cose le dice in diretta. Vabbè, ma dico cose interessanti. Sì, mi ricordo. Ma sa, allora, questa è la scelta di Genoveffa. Che bello. Che meraviglia. C'erano anche là i politici. Sì, beh, allora erano ancora dalla parte di qua delle sbagli.